iniziamo adesso a distinguere le varie categorie di marchi poi vedremo che a seconda del parametro che utilizziamo dal punto di vista che utilizziamo il marchio si può distinguere si può classificare in in modi diversi e iniziamo con diciamo una distinzione di carattere geografico cioè marchio nazionale marchio europeo poi c'è anche marchio internazionale a livello superiore però direi che ai fini del nostro corso è sufficiente che mi è sufficiente che voi sappiate l'esistenza diciamo dei due livelli nazionale e europeo con avere questa tabella è un po è un po semplicistica passatemi il termine però nel senso semplifica un po troppo però vi dà con un colpo d'occhio in un unica slide l'idea appunto della differenza soprattutto dei costi quello quello che mi interessava questa parte qua cioè vedete che uno agisce solo sul territorio italiano l'altro agisce su tutti i paesi dell'unione europea quindi voi in un botto solo cioè la differenza di prezzo se no sembra voi dite che aspetta però 144 e 850 è molto più alta sì sì e no però perché alla fine voi con poi adesso forse in alcuni casi diventa 900 può essere che sia da aggiornare di pochi euro comunque questo costo però come vedete siamo nell'arco siamo ampiamente sotto sotto il mille euro però voi in una botta sola con questa avete coperto tutti i 27 paesi dell'unione europea e al giorno d'oggi vi dico io tutte le volte che un cliente mi ha chiesto di registrare un marchio quasi molto raramente ci siamo accontentati del marchio del marchio puramente nazionale italiano perché alla fine a differenza diciamo la consulenza mia dell'avvocato non è tanto diverso come costo diciamo come parcella e quindi intanto che uno paga questa consulenza forse tanto vale che aggiunga qualche centinaio di euro per avere per avere il marchio registrato diciamo su 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 27 paesi anche perché ripeto al giorno d'oggi è difficile aprire un'attività commerciale affacciarsi soprattutto su internet quindi vendere i propri prodotti promuovere le proprie attività su internet e pensare di avere un'utenza che è unicamente limitatamente italiana e quindi iniziare già a partire già con questo con una registrazione europea aiuta perché cosa succede che se poi voi partite con un'italiana pagate appunto 144 euro più le ore di lavoro dell'avvocato che vi assiste nel momento in cui volete aggiungere un altro paese o altri due paesi siete andati già a spendere di più o ci siete già arrivati vicino agli 850 euro o ai 900 euro del marchio europeo e quindi alla fine e tra l'altro avete la copertura su solo pochi paesi invece qua in una botta unica avete coperto tutta l'unione europea diciamo quindi tutti i 27 paesi allora la differenza sta nel fatto che la registrazione presso il diciamo quella puramente nazionale si fa o presso l'ufficio italiano brevetti marchi o IBM sta per ufficio italiano brevetti marchi ma si può fare anche per il tramite delle camere di commercio quindi locali e quindi a livello provinciale ed è molto più semplice oggettivamente tant'è che a volte ai miei clienti non faccio pagare la consulenza nel senso che gli do solamente una consulenza di massima sul fatto che il loro marchio sia solido che sia sufficientemente distintivo che non sia in confitto con altri marchi però poi la registrazione se la fanno loro perché basta dare allo sportello della propria camera di commercio e loro già per il fatto che siete iscritti come azienda presso quella camera di commercio vi assistono vi danno un minimo di assistenza e di consulenza sulla registrazione ok quindi l'ho scritto qua in nota questi sono solamente ovviamente i costi minimi che riguardano la fia amministrativa cioè rimane fuori da parte di assistenza legale ma non è detto che ci sia questo volevo dire cioè in alcuni casi se arriva la pizzeria che vuole registrare un marchio molto banale molto semplice che ha sicuramente un'utenza e si rivolge sicuramente ad un'utenza che è solamente locale che si occupa solo e unicamente di ristorazione quindi non ci sono altre attività parallele allora può essere che appunto io non gli faccia nemmeno una vera e propria consulenza ma pure una consulenza puramente di massima poche ore di lavoro o una semplice ora di lavoro ma poi tutto il resto lo fanno loro la registrazione invece europea è già un po più complessa nel senso che per registrare il marchio europeo è suggerito essere un soggetto qualificato cioè che è iscritto a un elenco quindi ad esempio gli avvocati oppure i consulenti proprietà industriali cioè quindi soggetti che di lavoro fanno intermediazione su questo argomento su questo su questo aspetto e quindi in quel caso in effetti se uno non è del settore non conosce come funziona il sito dell'uami come funzionano le dinamiche può essere che se lo fa da solo perde un sacco di tempo per imparare rischia di fare magari di sbagliare e di non avere le stesse garanzie di non poter scaricare anche la responsabilità ad esempio su un soggetto qualificato cioè se questa cosa la fate fare a un consulente proprietario industriale o un avvocato che fa queste cose sapete anche con chi prendervela se poi la procedura non va a buon fine e quindi avete una garanzia che ci sia un professionista di mezzo che ci mette lui la parola e si assume lui la responsabilità comunque l'ufficio che si occupa della registrazione a livello europeo sta ad Alicante in Spagna anche se tendenzialmente si fa tutto ormai in digitale quindi anche l'attività che facciamo noi come avvocati viene fatta attraverso il sito ti loghi, ti registri e procedi ok altra distinzione l'abbiamo già accennata è quella tra marchio registrato e marchio di fatto l'abbiamo già detto cioè il marchio con la M maiuscola in realtà è il marchio registrato quello che trovate nel simbolino inglese R il cerchiolino con la R in mezzo che sta per registered quindi marchio registrato è un marchio che in virtù del processo di registrazione dinanzi ad apposito ufficio che può essere nazionale europeo o anche internazionale come vi ho aggiunto prima però in questo corso mi è sufficiente il livello europeo gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa e quindi abbiamo quello che nel diritto d'autore abbiamo detto che non è necessario per far nascere il diritto in realtà nel marchio la registrazione fa scattare tutta una serie di garanzie in più di cautele in più di tutele in più perché appunto c'è una data certa c'è un ufficio che mette un crisma che mette un timbro anche se ormai è tutto virtuale e digitale però da quel momento abbiamo la certezza che da quella data in poi c'è una titolarità certa su quel marchio per dieci anni come abbiamo spiegato il marchio di fatto invece vedete deve il marchio di fatto deve dimostrare che ci sia notorietà e che ci sia il preuso esteso cioè che sia stato davvero preuso sta per utilizzato prima è brutta come parola lo capisco però si usa molto nel diritto dei marchi il preuso cioè è stato davvero utilizzato prima in precedenza quindi uno che è titolare di un marchio di fatto cioè che non ha non ha voluto pagare quegli 850 quei 144 euro per la registrazione ma l'ha comunque utilizzato ha più o meno le cautele scusate le tutele che la legge prevede per i marchi però gli è più difficile dimostrarlo nel senso che deve dimostrare che il marchio sia riconosciuto più che la notorietà è la 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 riconoscibilità negli occhi dei tuoi del tuo pubblico del mercato di riferimento e il preuso cioè che sia stato davvero utilizzato in precedenza quindi il marchio di fatto è un marchio che pur non essendo registrato gode di una particolare tutela per essere protetto infatti il marchio di fatto deve essere utilizzato il cosiddetto preuso essere riconosciuto come segno distintivo quello che l'abbiamo chiamato notorietà ma più correttamente è il riconoscimento come segno distintivo e non come semplice ornamento e garantire un ricordo presso i consumatori cosicché possa esplitare eccola qua la sua funzione di segno distintivo presso il pubblico cioè la famosa capacità distintiva quindi se un marchio anche che non è stato registrato ma il suo titolare riesce a dimostrare in altro modo che ha raggiunto quella sufficiente capacità distintiva allora comunque la legge garantisce una tutela ecco l'altra l'altra distinzione abbastanza importante che abbiamo già citato in altre in altre occasioni e l'abbiamo forse già citata anche discutendo i nostri casi i nostri sentenze casi di cui quello in materia di marchi era principalmente quello di Armani che però non era proprio solo marchio c'era anche la parte del nome dominio e poi c'era quella di Banksy e qui c'è marchio forte e marchio debole quindi non è tanto un discorso di prova come prima del fatto di riuscire o meno a dimostrare l'andattazione certa il fatto che sia stata una registrazione che ha rispettato i canoni diciamo formali richiesti per la registrazione di un marchio bensì è un discorso di forza cioè di quanto il marchio è riuscito efficacemente a raggiungere il suo scopo di segno distintivo di capacità di mostrare una capacità distintiva marchi forti sono vedete quelli che hanno una spiccata originalità e notevole capacità distintiva ad esempio non deve avere un'attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce cioè non devono essere semplicemente descrittivi ma devono essere autonomi forti per se stessi no? se io dico Fender allora il classico esempio sono quelli che non hanno bisogno di essere spiegati cioè se io dico parlando al bar con gli amici del liceo ragazzi ieri ho comprato una Fender più o meno tutti capiscono che sto parlando di una chitarra non devo dire una chitarra Fender come appunto ieri i ragazzi mi hanno regalato un Rolex no? Rolex tutti sanno che è un orologio quindi è arrivato è davvero così forte per cui la gente capisce già dal marchio di cosa stai parlando ok? poi ci sono quelli che addirittura no? le abbiamo parlato hanno addirittura sostituito per la loro forza la parola di uso comune pulisiti il naso con un Kleenex soffiate il naso con un Kleenex invece che con un fazzoletto di carta della Kleenex o addirittura Google Google è diventato un verbo in inglese è entrato nel vocabolario inglese to Google cioè cercare su Google fare una ricerca internet quindi ormai Google è diventato sinonimo di ricerca su internet pensate la forza che quindi ha raggiunto marchio debole invece è quello vedete più descrittivo marchio debole è quello che presenta una minore originalità ad esempio per una diretta relazione con il prodotto con il servizio che contraddistingue quindi appunto è distintivo scusate è descrittivo pur mantenendo però una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato scusate mi sono ricordato che non ho letto quest'ultimo pezzo qui in alto diceva tale caratteristica lo porta a identificarsi con il bene stesso abbiamo spiegato quindi dire che ho comprato un Rolex ho comprato una Fender già uno ha capito di cosa stai parlando e tra l'altro questi Rolex e Fender sono anche rinomati quindi quella categoria in più rispetto alla forza ne parliamo dopo però appunto dire ho comprato un Rolex non solo ti fa capire che hai comprato un orologio ma ti fa capire che hai comprato un orologio di altissima qualità di grande rispetto sociale possiamo anche dire come il discorso per le Fender un po' meno per il Kleenex Kleenex è fortissimo come marchio è molto noto ma non è che uno si vanti di avere in tasca un pacchetto di Kleenex come invece uno si può vantare ad avere un Rolex quindi chiuso il discorso poi ci torniamo sulla rinomanza e il marchio debole invece è quello che vedete ha maggiore descrittività e minore capacità distintiva però deve comunque averla quella minima capacità distintiva perché se no sarebbe neanche marchio l'avete capito i classici esempi sono quelli farmaceutici quelli che nel nome descrivono che cosa fanno Benagol Momendol sono una marea oppure riguardano attività di vendita al dettaglio che sono molto comuni e che esistono più o meno in tutte le località in tutte le città la casa del mobile la casa del colore il caffè della stazione caffè dello sport il bar dello sport il bar dello stadio cioè in tutte le stazioni probabilmente c'è un caffè stazione però non è che il primo che ha utilizzato questo marchio va in tutti gli altri bar delle stazioni a fare causa perché gli stanno creando confusione perché il bar della stazione di Lodi difficilmente si può confondere col bar della stazione di Venezia o col bar della stazione di Firenze anche se si chiamano bar della stazione anche se sono scritti in modo diverso capite e quindi ecco la differenza mi raccomando la differenza tra marchio forte e marchio debole è importante è importante